3x5, Giorgio Gian Rossini, numero 3, Andrea Costa, numero 11, Gianni Munari, numero 14, numero 12, Pedro Bianca, numero 5, Cassia Redan, numero 10, Pasquale Foggia, numero 9, Nicola Pozzi, numero 23, Martins Edera, mister Beppe Iacchini, a disposizione, Martina, numero 44, Fiorillo, 6, Volta, 7, Castellini, 21, Soliano, 29, Guadaltonio, 77, Signori, 98, Pelle. Grazie.